Quali sono le parole dell'assessore? La questione del raddoppio della linea, almeno un raddoppio per tratti funzionali. Tutto questo purtroppo ce lo siamo detti molte volte, da tanti anni, ma ancora non è stato neanche concepito un progetto su questo. Il raddoppio della linea che, conti alla mano, in maniera spannometrica, costerebbe più o meno 3 milioni a chilometro. E sono circa 90 chilometri di linea da raddoppiare tra Mantova e Codogno. 6 milioni a chilometro. Ah, va bene. No, noi abbiamo fatto un calcolo spannometrico, ripeto, 6 milioni a chilometro. Comunque, sono circa 90 chilometri da raddoppiare, o almeno, ripeto, da raddoppiare per tratti funzionali. Quindi non tutta la linea, ma per consentire almeno l'avvicendamento dei treni e un guadagno in termini di regolarità, efficacia ed efficienza del servizio. E poi il piano di soppressione dei passaggi a livello, che ce ne sono su questa linea 70-80, quindi praticamente un passaggio a livello ogni chilometro. E per migliorare le condizioni della linea, sicuramente anche questo è fondamentale. Il materiale rotabile inadeguato, o comunque obsoleto, è come diceva lei, Assessore, e questo sì l'aveva già detto, non esistono in commercio treni per questa tratta di media percorrenza, e quindi si pensa a questo revamping totale dei treni esistenti. Speriamo che avvenga nel più breve tempo possibile. Lei dice però che non ci sono fondi, non ci sono risorse, e io posso anche crederci. Ma allora, quello che io chiedo, perché se la Regione ha stanziato, pare, 108 milioni di euro per l'autostrada Cremona-Mantova, invece di impiegarli in questa infrastruttura, non ripensa la programmazione e li impiega per l'infrastruttura ferroviaria, per quei interventi che lei stesso, Assessore, ha nominato e per i quali c'è un interessamento e un impegno anche con RFI per il raddoppio immagino della linea, che dipende appunto da RFI, come diceva lei, come ricordava lei. Poi, l'ultima domanda, o comunque l'ultima considerazione, i problemi di Mantova e di Cremona non si esauriscono purtroppo solo alla linea Milano-Cremona-Mantova, ma sono problemi che riguardano tutte le linee che coinvolgono sia la città di Mantova, e qui si entra in una situazione ancora più complessa perché si ha Mantova in una zona di confine, e quindi si ha un'interazione con addirittura due regioni, che sono il Veneto e l'Emilia-Romagna, e quindi anche su queste linee ci sono dei problemi enormi. E la stessa Cremona ha altri problemi su altre tratte, la soppressione del servizio ferroviario Cremona-Fidenza, Cremona-Piacenza, non esiste un collegamento diretto fra Cremona e Parma, non esiste un collegamento diretto fra Cremona e Bergamo, da Cremona, sulla Piacenza-Cremona-Brescia non esiste un collegamento veloce, insomma Mantova e Cremona, e soprattutto Mantova che si trova in una zona di confine, è molto penalizzata in questo assessore. In ultimo, verrebbe quasi da chiedere, su questi disservizi che sono cronici e sono ormai la regolarità, come lei stessa ha potuto constatare quando è salito sul treno da Cremona a Milano, la settimana scorsa il treno ha avuto 20 minuti di ritardo. Questa purtroppo, come lei ha dichiarato che tutto sommato il servizio non era così male, ma 20 minuti di ritardo, che sono praticamente la regolarità, mi sembra un disservizio più che un servizio. Quindi verrebbe quasi da chiedere una commissione di inchiesta che faccia chiarezza, che analizzi puntualmente questi disservizi, i continui guasti al materiale rotabile, i guasti alle infrastrutture, le responsabilità di chi ha preso queste decisioni e fatto questo tipo di linee. Quindi io accolgo, ripeto, con parziale favore quello che lei ha detto, sostanzialmente ha detto ancora di aspettare e che c'è interesse. Ecco, tutto qui. Grazie, Presidente. Per arrivare a Mantova, innanzitutto i due o tre mesi ci aggiorniamo in base al lavoro che faremo con RFI e il Ministero, in modo che almeno quando ci siamo... vorrei ricordare che per Mantova abbiamo convinto RFI a rifare completamente tutti i passaggi a livello, che come vedrete arriveranno tardi, ma non si bloccano più per i passaggi a livello, e che è stato confermato. Abbiamo sistemato tutti i sistemi di sicurezza e abbiamo cambiato tutti quei cavi che ci procuravano i problemi, in sostanza perché mangiati dai topi, e abbiamo fatto, abbiamo convinto RFI a rifare tutta l'infrastruttura dei cavi interrati, ovviamente, sigillati, proprio per evitare anche questo problema. Quindi non è che non si è fatto nulla, perché è una percezione sbagliata, che non siamo ancora come lontani, diciamo così, siamo ancora lontani da quello che vogliamo? Certo, sono io il primo a dirlo, però le azioni va dato atto a chi ha lavorato in questi mesi, perché se no sarebbe ingiusto. Un'ultima cosa sui treni, e questo non lo dico solo per Mantova, lo dico per altre tratte, Bergamo e così via. Quando ci sono gli MD, che tratto non sono di 50 anni fa, di 30, sono del 1982, che sono pieni, c'è qualcosa che dobbiamo ridefinire, non forse solo nel sistema ferroviario, ma anche nell'utenza. Cioè gli MD sono i treni con maggior capacità che sono esistiti sul mercato, che oggi tra l'altro non ci sono più, figuriamoci di più. Cioè quando un MD è pieno, noi non abbiamo più niente da dire, non è un torto dell'azienda. Non è un torto dell'azienda. Molto probabilmente dobbiamo regolamentarlo. Come fanno su Frecce Rossa, ad esempio vendendo i biglietti. Se questa è la scelta, e dobbiamo condividerela col territorio, che è quello che quando un treno ha più disponibilità non si può più salire sul treno, e quindi prende o il treno prima o il treno dopo, si può fare. Ma tecnicamente non si può fare niente. E per qualche illuminare, che poi mi aspetto anche questo, che mi dice, mettiamoli un treno dopo dopo un minuto. Voi sapete benissimo che le tracce, anche su quello che vi dicevo prima, da poco più di 300.000 a 800.000 è cambiato il mondo, e stiamo riempendo tutte le tracce. E al punto che i comuni sono stati talmente lungimiranti che hanno costruito a ridosso dalle ferrovie, che poi mi domando come si possa fare, che in alcune opere, che non vi faccio il nome, non è neanche più possibile ampliare le tratte. E Mantova è una di queste. Mantova, 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 invece è assolutamente diverso. È assolutamente diverso. È assolutamente diverso. Allora, Mantova è una di quelle tratte dove purtroppo tutta la tratta al raddoppio sarebbe impossibile, a parte che poi una certa parte c'è. Certamente, che è oggetto ovviamente alla valutazione del piano, per gli incroci dinamici, questo ovviamente lo stiamo pensando, progettando e valutando. Quindi, sul fatto dei treni, ci sono gli incroci, ci sono gli incroci con le altre linee, tutti vogliono tutto, ma è impossibile, questo non si può avere. Perché quando mi viene chiesto un treno in più per Varese che arriva su un incrocio, magari quello di Mantova, è naturale che ne passa solo uno di treno, non due. E quindi da lì bisogna fare delle scelte. Ecco, questo fa parte anche del piano regionale della mobilità che stiamo predisponendo, ma il lavoro è molto complesso. Qui rispondo ad un'osservazione che è stata fatta prima. Secondo me, in passato, è stato fatto un grande lavoro perché, ripeto, secondo me abbiamo dimenticato come avevamo le ferrovie prima. C'è da far di più. Io sono qua da otto mesi. Sono convinto di far bene, perché la parte ferroviaria è la mia mission, è quella dove vorrei poter ottenere maggiori risultati nel mio assessorato. ho uno staff, ho una dirigenza che è altamente preparata e siamo convinti di ottenere risultati. Questo lo faremo con voi, però, attenzione, con un modo di dialogare in maniera assolutamente, come è stato fatto fino adesso, propositiva, a volte anche forse, diciamo così, accesa per ovvi motivi, ma sempre assolutamente molto propositiva, perché questo è il modo più operare. Perché poi, sulle logiche che tutte le mattine bisogna andare con la pila per guardare dei vagoni, non credo più, non ci credo più, che può succedere, che succede, lo so, ma che mi sono reso conto, e non è solo a Mantua che sono andato, di tratte, ne fai in quel caso, per amicizia, per ti ho chiamato, in tante tratte non avviso nessuno, lo faccio per capire, perché so stufo di sentir dire troppo e poi sentire dall'altra parte invece la società che mi dice altro, allora le voglio toccare con mano e finora devo dire che è sempre stata una via di mezzo come mi aspettavo. Non è una giustificazione, faremo tanto, io sono convinto che con voi lavoreremo bene. Io, una cosa, se il treno è pieno e il treno è, diciamo, della massima capienza, va ripensata l'utenza? Secondo me no, cioè, va ripensato, va potenziata la linea, non certo mettendo un treno un minuto dopo, come diceva l'assessore, non mi addentro a questo tipo di valutazioni, però va potenziata la linea, va incentivato il trasporto pubblico. Poi costruire a ridosso della ferrovia e quindi il raddoppio dei binari in alcune zone non si può fare perché i comuni hanno costruito a ridosso della ferrovia, va bene, è un problema, non lungo tutta la tratta è così, rilevo che stando a quelli che sono i progetti preliminari, ma anzi, quelli che sono stati i progetti definitivi dell'autostrada, presentati, dall'autostrada Cremona-Mantova, presentati nella sede della provincia di Mantua, non più tardi di una settimana fa, in un tratto, si sta pensando di costruire le carreggiate autostradali a 50 metri o poco più dalla linea ferroviaria. Quindi, stando a quello che ha detto Assessore, teniamo conto anche di questo. Ecco, grazie.